Ciao ragazze, come vedete sono in una location diversa perché sono riuscita a venire giù in Sicilia dalla mia famiglia nella mia terra e sono super felice di questa cosa, era davvero tanto, tantissimo tempo che non tornavo in famiglia e quindi sto cercando di godermi questi pochi giorni qui. Mi dispiace se non sarò presente come quando lo sono a Milano, però cercate di capirmi, so che mi capirete ma nonostante questo cercherò di essere più presente che posso senza togliere del tempo la mia famiglia perché ovviamente sto pochi giorni e poi rientro a Milano e non li vedrò, ecco, per questo so che mi capirete. Sono le 20 e 28, ancora non ho cenato, sto facendo un riposino nel letto di casa mia quanti di voi, magari studenti fuori sede o comunque ragazze e ragazzi che hanno lasciato la propria terra, la propria casa per studio, lavoro ogni volta che tornano a casa propria è una sensazione unica persino dormire nel proprio letto che vi hanno accolto quando eravate piccini. Io... il mio letto non ha paragoni con nessuno. Allora ragazzi, oggi è una giornata particolarmente bella, mi sento felice e non c'è un motivo particolare, ma meglio così. Vi volevo ringraziare perché avete mandato in tendenza l'hashtag per il mesiversario mio e di Rosy quindi vi ringrazio perché siete sempre carinissimi con noi. Quindi detto questo, mi godo questa serata, in solitudine purtroppo, però vabbè vado a cucinare, mia grande non passione, però vabbè, cucino e poi stasera sono indeciso se guardare un film ovviamente dopo aver giocato un po' alla Playstation perché ci sta e quindi devo scegliere un bel film su Netflix qualcosa tipo documentare, mi piacciono molto, adesso vedo. A proposito di Playstation, questo è un messaggio principalmente per i maschietti io gioco solo a FIFA, quindi magari in questo weekend che sono libero potrei lanciare una sfida online, così mi iscrivetevi, vi do il mio account e giochiamo online contro, potrebbe essere una buona idea. Fatiamo il tabù, io ho chiesto informazioni a questa persona per la casa ovviamente in questo momento non aveva la disponibilità e non aveva le case giuste per me no, ce l'avevo, ce l'avevo, ce l'avevo quasi volevo apprezzare pubblicamente questa persona perché tutti che vanno a Dubai l'unico che non va a Dubai fa bene, però l'unico che sta qua ancora a Osimo siamo a Milano ma cosa ti mangio oggi di buono? ho rama e sale ecco, quella cosa che vedo nella pentola lì gamberò cos'è, cosa bolle in pentola? gamberoni come è venuta papà storata al sale? eh, ho capito che è al sale, ma è buona? buonissima, non buona, di più sorella, ma quanto mi hai trovato esaurita da 1 a 10? 100.000 siamo un paese di esauriti siamo un paese di esauriti vi potrebbe interessare una bella diretta dove faccio insieme a voi il famoso bianco e nero questo dolce di messina del quale vi ho già parlato al grande fratello fatemi sapere, metto qui il sondaggio che ho pensato già al giorno bacione insieme a voi Gli occhi